Una delegazione di amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella battaglia contro il rincaro dei petaggi autostradali sulla 24-25 è stata ricevuta dal sottosegretario dell'Orco in rappresentanza del ministro Toninelli, assente per altri impegni, insieme al direttore generale Cinelli e ai parlamentari abruzzesi della maggioranza. La delegazione delegata dai sindaci, di cui una buona parte era presente all'esterno del ministero con la fascia tricolore, ha provveduto a riassumere con una documentazione molto ricca tutto il lavoro svolto da gennaio sino ad oggi, ponendo l'accento sulle problematiche che i rincari hanno prodotto per gli abitanti, l'economia e lo sviluppo, il turismo e i territori interessati, soprattutto ovviamente per le aree interne. La delegazione ha riproposto tutte le richieste contenute nelle lettere inviate, l'immediata sospensione dell'aumento delle tariffe in vigore dal 1 gennaio, la creazione di un tavolo istituzionale con la presenza della delegazione degli amministratori per ridefinire i criteri di determinazione delle tariffe, la declassificazione del tratto urbano che dalla barriera di Roma-Est arriva fino alla tangenziale romana, nonché di quei tratti classificati impropriamente montani, in non montani. Il dottor Cinelli, dopo aver confermato l'arrivo di centinaia di richieste di accesso agli atti, ha manifestato la piena disponibilità alla pubblicazione di tutti gli atti richiesti, appena ricevuto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il sottosegretario ha manifestato anche un impegno politico per aiutare la parte tecnica all'approvazione in tampe rapidi del documento economico e finanziario, il DEF, che risolverà strutturalmente anche la questione delle tariffe e dell'aumento delle stesse. La delegazione ha chiesto un intervento immediato che dia respiro ai territori. Il sottosegretario ha manifestato la disponibilità a valutare insieme al Ministero una solazione verso questa direzione.